allora mazzi midrange cosa ci mettiamo dentro midrange alla fine ci può stare Corvold, Yarok sì ma anche cose come tipo Edgar Markov Maren, Lord Wingraise Tatiova, Nivmizet sì, Muldrota Arkades, Gishat Neheb Lordragon, Krenko Assolutamente, Arkades Zur, vai così Tassigur, Oloro sì dai, Oloro, Aminato Tuvasa, Nekusar abbiamo già detto? sì, ma Tatiova, The Scarab God Omnat l'altro Omnat l'altro ancora Omnat Varina, Brago Yakmot, Riku Narset, Nicol Bolas vabbè gli sliver non li metti gli sliver Overlord, cavolo oggi parliamo di Commander e benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Casual Commanders e di cosa parliamo oggi? oggi affrontiamo un po' l'argomento degli archetipi in Magic gli archetipi sono queste macro categorie di mazzi e strategie che ci servono per capire come funzionano le nostre partite quindi è il concetto di avere una categoria a cui il nostro mazzo può appartenere che ci fa capire come funzionerà quindi qual è la strategia che cerca di portare a termine per vincere e quali sono poi di conseguenza le carte che vogliamo utilizzare o come dobbiamo agire durante la partita quindi come per esempio se ci troviamo contro un altro determinato archetipo dobbiamo reagire in base alla situazione della partita ecco l'idea è vedere un pochino quali sono gli archetipi generali quindi quelli che ci sono in Magic costruito ma anche Limited si applica certo, normalmente e poi per trarne un attimino una lezione e vedere come si applica questa cosa in Commander quindi capire poi anche come vengono utilizzate in Commander sì, ci tengo a precisare che la distinzione che abbiamo fatto noi si basa appunto su un nostro personale categorizzazione insomma di questi archetipi e ci siamo concentrati principalmente sul tempo cioè su come questi archetipi sfruttano il tempo quindi possiamo identificare tre macro categorie che possiamo definire con aggro, control e midrange i mazzi aggro sono quelli che tendono ad essere più rapidi quindi cercano di chiudere in maniera molto veloce e ovviamente più vanno avanti e più iniziano a perdere colpi iniziano ad essere in difficoltà i mazzi control invece sono quelli che cercano di controllare la partita di prolungare la partita e chiudere con quelle carte che sono disponibili però dai turni anche successivi al settimo turno quindi questi sono diciamo i due poli opposti midrange vengono considerati quei mazzi un po' a metà tra queste due strade ma principalmente più che a metà vengono considerati dei mazzi che sfruttano a pieno la curva quindi normalmente il mazzo aggro avrà all'interno del mazzo dell'espelle a costo molto basso il mazzo midrange in questo caso cerca di sfruttare ogni turno nella maniera migliore possibile sì il concetto midrange chiaramente anche dal nome è quello che sta in mezzo vuol dire oltre a sfruttare bene tutto il tempo che ha a disposizione sarà anche quello che è più elastico tra i due nel senso che ci permetterà di vincere magari nei primi turni se siamo in una determinata condizione favorevole oppure durare fino alla fine della partita prolungata attraverso un vantaggio costruito nel tempo poi lo vedremo bene nel dettaglio oltre a queste tre grandi macro categorie ci sono anche un pochino di strategie o archetipi più mescolati diciamo che possiamo definire chiaramente ognuno di questi può comprendere molte categorie di strategie però questo è il concetto macro alcuni che è interessante parlare per esempio sono i mazzi tempo che sono un tipo di strategia basata un po' sul midrange quindi avere delle minacce ma poi allungarci nel controllo della partita rispetto agli altri midrange normali magari si punta un po' più sul control e un altro invece archetipo molto importante che però esula un pochino da questo concetto temporale quindi della strategia del vincere subito o vincere tardi è il mazzo combo il mazzo combo esiste in un tempo a sé stante sì proprio perché la strategia del mazzo combo è un po' mette da parte quella che è l'interazione perché il mazzo combo non si basa su una vittoria che viene raggiunta progressivamente ma si basa semplicemente in combinazioni delle carte che faranno vincere il mazzo in maniera immediata e quindi anche questo non ci siamo sentiti di metterlo nelle macro categorie legate appunto al tempo che i mazzi sfruttano proprio perché risulta essere una strategia che diciamo si basa innanzitutto sul chiudere la combo ma dipende molto anche dal tipo di combo ci sono mazze ad esempio che sfruttano delle combo che possono essere innescate in maniera quasi immediata altre ad esempio che richiedono più tempo quindi magari avere una strategia control prima per poi chiudere di combo dopo e dopo vedremo anche che in commander diciamo la tematica del combo è importante anche in quel formato lì io direi che possiamo partire allora molto schematicamente nell'affrontare appunto queste tre macro categorie partirei con l'archetipo aggro aggro è il più veloce di queste strategie abbiamo visto si basa sull'utilizzare mazzi che come abbiamo detto chiudono nei primi 4-5 turni parlando dei formati costruiti di 60 carte il limited magari un po' dopo però comunque cerca di avere una curva di costo di mana molto bassa quindi giocare creature al turno 1 che costano 1 al turno 2 magari 2 creature che costano 1 e al turno 3 magari una creatura che costa 2 e un'altra che costa 1 e poi basta non giocherà più altre terre per cui anche il numero di terre nel mazzo è molto basso per aumentare il numero di creaturine parlando di creature chiaramente questo è anche il più facile metodo di pensare all'aggro mettiamola così parliamo di aggro anche quando parliamo di mazzi tipo burn in modern che sono invece basati più su spell quindi anche semplicemente giocare fulmine che fa tre danni a costo umana è comunque una strategia che cerca di utilizzare tutte le risorse a inizio partita velocemente in maniera efficace però con delle minacce che potremmo definire in qualche modo effimere se noi pensiamo a pagare un mana per fare il lightning bolt quindi il fulmine in faccia al nostro avversario ci sta avvicinando alla vittoria ma non sta costruendo niente nella nostra strategia quindi non sta mettendo pezzi sul campo non sta togliendo una minaccia ci sta avvicinando un pochino a quella che è la vittoria se noi contiamo semplicemente portare i punti vita da 20 in costruito normale a zero nel nostro avversario ecco questo tipo di minacce sono quelle tipiche dell'aggro sì allora una cosa che mi sento di dire un brevissimo commento è che spesso almeno nella community di magic l'aggro viene visto un po' come il mazzo brainless o comunque come il mazzo facile da giocare in realtà questa secondo me è un bias abbastanza consistente nel senso che in realtà non è facile giocare mazzi aggro in maniera competitiva in maniera efficace questo perché le nostre risorse non sono infinite e quindi secondo me avere appunto anche qui si parla di tempo sapere quando giocare alcuni tipi di carte al momento giusto è importante ovviamente sempre avendo in mente che lo scopo finale è azzerare i punti vita dell'avversario nel minor tempo possibile e in questo caso una cosa che aiuta molto nella costruzione del mazzo è la consistenza del mazzo cioè quante carte riesco ad avere nel mazzo che fanno la stessa cosa perché proprio perché per il motivo che i mazzi aggro hanno questa strategia abbastanza lineare dobbiamo essere altrettanto sicuri di avere delle carte che indipendentemente da quelle che pescheremo saranno comunque le carte che servono per raggiungere il nostro scopo e quindi secondo me cerchiamo di fare anche sempre attenzione sui pregiudizi eccetera perché comunque giocare un mazzo aggro bene non è secondo me affatto facile se vogliamo vedere degli esempi anche magari in altri formati a parte il commander possiamo pensare non so a un white weenie quindi magari un mazzo solitamente mono bianco che sfrutta appunto creaturine e cerca di fare danni nel minimo tempo possibile oppure come vediamo anche in standard mono red un mazzo che va tantissimo specialmente per scalare il ladder visto che è estremamente veloce e ci permette di fare sicuramente almeno due o tre partite rispetto a un mazzo controllo sì altre strategie le abbiamo già viste per esempio il burn che come dicevi tu il fatto di utilizzare tante carte nello stesso slot che fanno la stessa funzione per esempio l'admin bolt può essere utilizzato anche insieme a rift bolt che c'è pagato un mana sospeso è comunque tre danni che possiamo fare in faccia all'avversario o lava spike che fa tre danni a velocità stregoneria sì ecco in commander giusto per citare un paio di esempi che poi vedremo meglio approfonditi un pochino più avanti alcuni comandanti potrebbero essere per esempio isamaru potrebbe essere montato ripensando alla strategia white weenie che viene fatta in standard oppure a me viene in mente anche rurik tar certo non è velocissimo essendo un comandante che costa 6 però si gioca sempre pensando a quest'idea di giocare creature perché lui punisce i giocatori che giocano magia e non creatura e attaccare 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 normalmente e anche se pensiamo a prendere 6 danni in faccia ogni volta che lanciamo una magia per gli avversari diventa comunque un clock abbastanza rapido anche se è dal turno 5 o 6 sì sicuramente commander è un discorso a parte e invece andando avanti appunto con gli altri archetipi passiamo adesso al control che come abbiamo detto si può considerare quasi l'opposto dell'aggro visto che comunque la sua forza è quella di cercare di prolungare la partita di controllare il campo e di chiudere nei turni un pochino più avanti rispetto ad aggro allora qual è lo scopo principale di control control normalmente è un archetipo che gioca molti ad esempio può giocare molti counter quindi evitare che entrino in gioco delle creature che possano essere delle minacce o semplicemente per prendere tempo visto che comunque giocare un counter su una spell magari un giocatore ha speso tutto il mana lo stiamo praticamente rallentando di un turno e quindi anche qui è una cosa interessante anche qui purtroppo c'è molta critica sul controllo uno pensa che controllo è un mazzo che si basa esclusivamente su giocare istantanei perché di questo si tratta turno metto terra passo e aspetto che tu faccia qualcosa non solo soprattutto la classica cosa a cui si pensa che comunque è chiaramente parte della strategia di control è quella di bloccare e non farti giocare per questo magari è spesso visto in maniera negativa dagli altri giocatori quelli a cui non piace effettivamente ma perché il concetto di control è giocare delle minacce solo tardi nel gioco prima si cerca di assumere il controllo della partita e assumere il controllo della partita vuol dire avere un vantaggio incrementale che raccogliamo nel corso dei turni perché il nostro avversario non ha più minacce e noi possiamo tranquillamente aspettare di giocare le nostre minacce e lo facciamo attraverso guadagnare effettivamente anche vantaggio carte quindi pescando più carte e rimuovendo le minacce degli altri quindi spesso magari cercando di fare cose che tolgono una minaccia e ci fanno guadagnare un'altra carta magari tipo pensiamo in modern il cryptic command che è un counterspell quindi fermerà una minaccia dell'avversario e in più ci farà pescare un'altra carta quindi non perdiamo carte mentre l'avversario perde una carta il concetto poi ovviamente del vantaggio che si rispecchia un po' anche nell'archetipo diciamo ibrido del tempo in cui uno ha appunto in mente questa idea del controllare ma soprattutto di fare vantaggio quindi magari rimbalzare pezzo tappare far scartare o magari avere differenza appunto come ben detto su cryptic command avere più carte degli altri eccetera però ecco in generale nel control lo scopo finale è quello di chiudere con una minaccia abbastanza consistente e poi soprattutto non so mi viene in mente anche non so magari a turno 8 uno gioca carte come Sphinx Revelation che ti permette magari di pescare e di prendere punti vita e lì comunque a quel punto acquisisci un vantaggio che è sormontabile per l'avversario un'altra delle cose importanti appunto oltre ad avere un piano che è più lento rispetto agli altri archetipi l'altra cosa fondamentale per il mazzo control è avere le risposte risposte che dovrebbero essere a tutto vuol dire il mio avversario gioca una creatura gli faccio un counterspell oppure gioca la creatura è entrata gli faccio la rimozione quindi spesso si parla di risposte velocità istantanee perché sono le più flessibili e perché ci permettono anche magari di ridirigere o di poter scegliere nel momento opportuno quali sono le risposte da utilizzare o se magari la minaccia che sta cercando di mettere l'avversario non è una minaccia in questo momento e allora sfruttiamo le risorse in mana intendiamo in quel caso durante il turno dell'avversario per pescare e quindi aumentare il nostro vantaggio in quel momento sì in generale appunto anche qui si parla molto di gestione delle risorse perché ovviamente i counter le rimozioni saranno limitate quindi il giocatore esperto di control sa ben calibrare dove indirizzare le proprie diciamo le proprie rimozioni i propri counter perché ovviamente arrivare ad un punto in cui abbiamo la mano vuota non abbiamo risposte ci diciamo uccide il mazzo in questo modo perché gli altri hanno modo di recuperare molto velocemente e esempi che si possono fare magari nei formati che conosciamo possono essere non so pensare anche a carte come Teferi che è una carta estremamente in realtà tutti i Teferi nel senso hanno proprio questo concetto di prendere tempo di fare vantaggio sugli altri e se lo posso dire di rompere le scatole perché di solito è così e non so anche magari i mazzi appunto in generale il control adesso magari in standard si gioca forse un po' di meno rispetto ad altri mazzi che sono incentrati più sull'agro e sul mid range però magari non so anche i mazzi non so si giocava una volta anche di mir control ad esempio può essere un esempio certo o sul tie sotto alcuni aspetti può diventare molto control perché utilizza il blue per fare i counterspell nei momenti chiave il nero per utilizzare le rimozioni sulle creature o board wipe anche questo è un fattore molto importante e poi magari il verde per avere quelle minacce finali oppure se pensiamo ai storiche standard con per esempio Hydroid Crisis per ripescarsi tutta la mano e avere anche la minaccia in quel caso comunque se pensiamo a questa strategia in commander giusto sempre per avere degli spunti perché poi ne parleremo più approfonditimente ci vengono in mente Talrand mono blu anche qui vediamo che il colore blu è ovviamente uno dei grandi sostenitori di questa strategia Talrand che ci permette di avere un motore che genera vantaggio appunto creando delle creaturine mentre facciamo i nostri counterspell le nostre peschini le nostre azioni di control sugli altri giocatori oppure un altro Baral certo che ci permette di scontare le spell e ci fa pescare e ci fa pescare quindi in quel caso avremo un sacco di value avremo un sacco di vantaggio e quindi basta avere appunto come dicevamo prima quel punto in cui gli altri non riescono più a raggiungerti e diciamo che la partita viene un po' guidata da questo vantaggio e arriverai adesso alla terza macro categoria che è la categoria mid range quella che sta in mezzo praticamente esattamente quindi una strategia che possiamo definire un po' ibrida no? sì certo perché stando in mezzo tra le due vuol dire che ha degli elementi aggro e degli elementi control e forse è un po' difficile da capire perché sembra sembra un po' tutto di più come fai a dire definirla una strategia se prendi un po' quello che ti pare in realtà forse anche per questo magari è più difficile come archetipo in generale però cosa significa? significa cerca di essere flessibile cerca di avere di sfruttare le risorse continuamente quindi avere una curva bella compatta ma che è spalmata su tutta la curva appunto quindi avere giocate da fare dal turno 1 al turno 7 lui utilizzerà tutte le sue risorse nella maniera più efficiente possibile cerca di avere anche sia delle piccole minacce o delle minacce comunque di nuovo sfruttano bene le risorse che ci mettiamo per cui appunto normalmente il costo di mana ma anche può essere il numero di carte che utilizziamo oppure cioè oltre queste minacce poi cerca anche di avere delle interazioni in questo caso come la parte control quindi delle removal per le creature dell'avversario avere tante risposte o ad esempio pensiamo anche a motori per far scartare all'avversario quindi fargli perdere altre risorse in modo che non possa rispondere alle nostre quindi comunque prende un po' l'interattività del control e sfrutta alcuni delle strategie poi che sono quelle dell'aggro per comunque chiudere la partita quindi ha un po' di tutto la cosa interessante è che fa un po' tutto e fa un po' niente nel senso che ovviamente non riesce a fare tutto alla perfezione però ha la flessibilità questo è interessante perché vuol dire che avendo un po' di elementi da una parte dall'altro può spostarsi anche durante la partita quindi non solo mentre costruiamo il mazzo noi decidiamo di avere questo tipo di cose questo tipo di risposte questo tipo di minacce ma durante la partita decidiamo ok in questo momento è importante attaccare allora giochiamo una minaccia e facciamo pressione all'avversario oppure in questo momento è meglio cercare di controllare bloccare la minaccia dell'avversario cercare di stabilire un attimo di presenza tenendosi in difesa e poi contrattaccare dopo si può succedere benissimo magari in un mazzo midrange che conoscendo magari iniziando a vedere il mazzo dell'avversario ci possiamo non so tenere stappati per magari un possibile counter che abbiamo in mano una possibile rimozione la cosa che a me viene in mente sempre col midrange è il concetto del giocare in curva cioè cercare di ottimizzare le giocate in base a quanto mano abbiamo a disposizione perché già questo fa vantaggio già questa cosa qui del riuscire a giocare a turno 4 una carta che costa 4 fa vantaggio sugli altri fa vantaggio su aggro ad esempio che magari avrà spell che costeranno 1 o 2 quindi dal turno 4 in poi difficilmente potranno giocare una spell che copra tutto tutto quanto quindi anche questa cosa qui da un punto di vista midrange è estremamente importante il fatto di giocare in curva e di avere più o meno la curva stessa del mazzo una curva che non sia troppo spostata possiamo magari immaginarla come una curva a campano in cui abbiamo una media al centro e in cui dopo abbiamo le altre carte agli estremi negli altri formati pensando magari anche ad esempio non so a modern Jan Jund potrebbe essere considerato un mazzo midrange è uno forse dei capistipi dell'archetipo Jan dell'archetipo dell'archetipo midrange esatto perché pensando proprio alle carte loro utilizzano o utilizzavano mettiamolo anche così pensiamo a il Tarmagoyf che è una minaccia che scende a turno 2 ma che cresce col tempo diventa molto molto forte perché può essere un 4-5 o un 5-6 pagato 2 mana se ci pensiamo un mazzo aggro normalmente non riesce a stare dietro a una cosa del genere e ovviamente diventerà più forte con le rimozioni che utilizzeremo esattamente e allo stesso tempo abbiamo elementi un po' di control per esempio Liliana del velo che farà scartare l'avversario magari quando noi non avremo più carte in mano quindi scartare entrambi per noi non sarà un costo non perderemo effettivamente delle risorse ma lo farà l'avversario al nostro posto assolutamente poi ecco se ci vogliamo spostare un po' sulle particolarità che il mid range può avere abbiamo già accennato i mazzi tempo e i mazzi tempo in realtà sono un diciamo una sorta di mid range o comunque un archetipo ibrido che tenta di fare vantaggio principalmente di controllare e magari chiudere con delle minacce che non sono neanche troppo grosse magari abbiamo delle creature evasive che ci permettono di fare danno ma nel frattempo noi possiamo fare vantaggio carte possiamo rimbalzare pezzo possiamo impedire comunque che l'avversario vada davanti a noi e quindi esempi magari che possiamo vedere non so in standard ci può essere mono blu in power per esempio delver può essere considerato un mazzo tempo e non so in commander mi viene in mente mi vengono in mente comandanti come edric spy master che l'effetto seppur banale che ci permette di pescare quando sfruttando le nostre creature è molto forte perché se costruiamo un mazzo con creature molto evasive che riusciranno sempre a fare magari danno o comunque a renderle evasive noi faremo vantaggio carte e soprattutto tenderemo anche a controllare il gioco si spy master edric è sicuramente un buon esempio dell'archetipo del sotto archetipo tempo perché giocherà quelle creaturine 1-1 volanti o evasivo o imbloccabili e accumulerà quel vantaggio lentamente nel tempo poi con quel vantaggio che cosa ci facciamo in quel caso andremo a fermare gli altri quindi a rallenziarli e a impedirgli di andare avanti con il loro piano in modo che le nostre piccole minacce vanno avanti a fare questo lento attrito è un gioco proprio di piccolo vantaggio incrementale ma altri comandanti midrange cosa potremmo pensare cosa ti viene in mente non lo so un arcades ad esempio un wing race in realtà penso non lo so potremmo andare avanti all'infinito credo ebbene sì il concetto a cui cerchiamo di alludere è il fatto che alla fine in commander quasi tutti i mazzi sono midrange cioè siamo tutti dei giocatori di midrange perché giochiamo a commander e questo perché perché sempre in riferimento al nostro concetto di velocità con cui vogliamo concludere le nostre partite commander nasce proprio anche dalla volontà di avere delle partite più lunghe e quindi escludiamo un po' automaticamente quello che è l'archetipo dell'aggro perché a livello di regolistico ci troviamo ad avere 40 punti vita anziché 20 e 3 avversari quindi un mazzo aggro deve fare 120 danni in 4-5 turni difficilmente può farlo difficilmente ma anche se pensiamo magari a control il concetto stesso di control viene meno in questo caso perché proprio perché ci sono più giocatori non riusciremo mai a controllare tutta la partita per fare vantaggio e anzi sarà svantaggioso per noi perché concentrandosi esclusivamente su un giocatore avvantaggeremo gli altri giocatori e in qualche modo sprecheremo quelli che possono essere definite le rimozioni o counter diciamo non diciamo canonici in commander giocare un mazzo tra golette modern in commander control non avrebbe completamente senso perché appunto è un gioco diverso abbiamo è un gioco multigiocato con 4 giocatori e abbiamo anche il fatto che abbiamo tanti punti vita cosa che magari interessa più gli aggro ma anche in control se vogliamo chiudere con una minaccia non sarà mai sufficiente come cosa bene una volta capito questa cosa del midrange del fatto che commander si gioca un pochino tutto in questa faccia è chiaro rendersi conto che ci saranno dei mazzi come quelli che abbiamo nominato prima che avranno delle componenti aggro e delle componenti control perché comunque sono le strategie fondamentali di magic la cosa interessante per cui volevamo parlare di questi archetipi è perché si applicano a tutti i formati compreso commander in realtà chiaramente ci scherziamo un po' sopra però la cosa interessante appunto è capire che midrange è quella comunque in cui ci spostiamo normalmente per cui all'interno di midrange e in commander andiamo poi a identificare quelle che sono le varie strategie una delle strategie principali potremmo dire anche se non è giocata da tutti e non è sempre ben vista è la strategia combo riprendendo quello che abbiamo detto all'inizio combo è di nuovo un archetipo un po' fuori dagli archetipi perché non utilizza questa scala temporale perché non ha così tanta interazione questo stiamo parlando chiaramente all'estremo di mazzi che puntano solo a fare una combo e di nuovo anche questo è una cosa che magari in commander succede un po' meno perché succede un po' meno in commander magari non abbiamo sempre questi tipi di mazzi magari a parte nel competitive abbiamo dei mazzi che utilizzano le combo in una maniera un po' diversa sì allora la cosa interessante è che sicuramente viene molto influenzato dal fatto che avremo un mazzo di 100 carte però con tutte carte in singola copia normalmente cosa succede in altri formati i mazzi combo cercano di trovare delle carte che sono simili tra di loro e che possono avere le stesse interazioni con la combo quindi nel nostro caso in realtà la combo non viene sfruttata come metodo esclusivo in cui basare il nostro mazzo ma anzi viene utilizzata come un qualcosa di aggiuntivo che crea flessibilità al mazzo perché avremo una chiusura ulteriore nel mazzo la cosa molto forte delle combo in commander è che avendo tanti avversari sappiamo che con quella combo possiamo vincere automaticamente senza dover eliminare un avversario uno a uno e quindi in realtà la cosa interessante che si tratti di combo ma anche che si tratti di controllo aggro tutti questi archetipi in commander hanno un'utilità diversa e vengono sfruttati in maniera diversa combo appunto in questo caso non baseremo il nostro mazzo su una combo ma potremmo inserire all'interno del mazzo delle carte che garantiscono sia una vittoria immediata ma possono avere delle interazioni delle sinergie tra di loro e quindi costruirci dei metodi di vittoria alternativi aiuta anche nella varietà che abbiamo all'interno del mazzo tornando brevemente adesso anche anche in control control sarà diverso in commander perché ad esempio non utilizzeremo magari dei counter ma tenderemo magari a utilizzare delle must removal o magari utilizzare degli effetti che si controllano ma cercano di sfruttare l'ambiente di commander e quindi sì in questo caso anziché magari per fare un esempio in in modder magari anziché giocare carte come adesso faccio un esempio da nostalgico visto che adesso da tantissimo tempo è bannata ma non so mazzi come splinter twin che sfruttavano questo incantesimo per fare pedine infinite e danni infiniti questa cosa qui in commander diventa molto più difficile diventa più difficile perché abbiamo un mazzo in singleton è come abbiamo detto e prima di dirvi che non succede però chiaramente succede ci sono dei mazzi che decidono ok la mia strategia è vincere con questa combo faccio di tutto per trovarla e quindi magari utilizzerà molti tutori o utilizzerà un comandante che fa parte della combo o un comandante che ci permette di trovarla però quello che si fa normalmente in commander è sì gioco splinter twin perché magari quando trovo deceiver ex arc quindi la creatura con cui va in combo vinco la partita però comunque quando io la pesco e la gioco su un'altra delle mie creature funziona molto bene perché tutte le mie creature sono legate dalla tematica enter the battlefield quindi avranno un effetto che raddoppiato diciamo con splinter twin e giocato tutti i turni perché possiamo tapparla tutti i turni sarà una cosa molto forte questo cosa vuol dire che in commander spesso possiamo includere delle combo in maniera accidentale cioè non stiamo decidendo che la nostra unica strategia è la combo ma quella carta fa parte della nostra sinergia quindi delle cose che vogliamo fare già nel nostro mazzo e quindi è forte comunque se noi la peschiamo sarà molto utile e questo cosa ci porta ci porta anche a capire che in commander più che parlare appunto di aggro puro e duro o semplice control o semplice mid range la cosa interessante è capire come archetipi quali sono le strategie effettivamente che utilizziamo sì ma proprio pensando al fatto che normalmente in generale un mazzo commander proprio per il tipo di gioco tende a essere mid range non ci andremo più a concentrare su diciamo l'aspetto legato al tempo perché il tempo sarà quello il tempo di gioco è quello e dobbiamo regolarci in base a questo ma più che parlare di strategie archetipi sul tempo si parla di tematiche cioè quelle carte con effetti sinergici tra di loro che permettono di definire la struttura intera del mazzo normalmente magari il nostro comandante ad esempio può avere degli effetti e noi possiamo costruire un mazzo con delle carte che siano sinergiche con il comandante e di esempi ce ne sono veramente tantissimi e in generale però la cosa bella che a me piace pensare è che questa cosa crea un'estrema varietà all'interno del formato certo perché noi pensiamo a un comandante come Atraxa che utilizza i segnalini perché utilizza la meccanica di proliferare ecco già qua è una meccanica ma è una meccanica che può essere affrontata in maniera in mille maniere diverse per esempio Atraxa può essere il comandante di un mazzo Super Friends e già Super Friends vediamo che è uno degli archetipi che possiamo incontrare in commander oppure potrebbe essere utilizzata in un ambiente in una maniera che tende di più al macro archetipo aggro ma che viene considerata archetipo in commander dei segnalini più uno più uno perché cerca di fare vantaggio appunto facendo diventare le nostre creature sempre più grandi e quindi vincere attraverso il combattimento a creature molto più forti degli avversari ecco quindi troviamo che queste strategie diciamo questi archetipi sono quelli su cui vogliamo concentrarci ecco sì e la cosa appunto interessante è che come dicevi te c'è questa estrema personalizzazione quindi non è che un comandante anche questa cosa qui penso anche alle persone che vogliono iniziare adesso a giocare commander secondo me anche per me è stata comunque una transizione perché comunque io non sto giocando da tantissimo tempo e mi sta piacendo anche proprio per questo motivo qui perché comunque si scoprono sempre cose nuove però di non avere l'idea che un comandante ti forza a giocare per forza quel tipo di mazzo perché questo questo concetto almeno secondo me è un po' erede di quelli che sono i formati più competitivi cioè un mazzo magari in modder se non ci giochi esattamente quelle carte non sarà mai un mazzo competitivo questo in commander abbiamo la scelta possiamo abbiamo un'estrema personalizzazione del mazzo questo chiaramente avviene perché quando parliamo di commander e soprattutto nel nostro discorso si parla di commander in maniera casual e quindi non è la vittoria la cosa che conta e quindi ci possiamo permettere di fare quello che ci piace ovviamente sì esattamente e da qui forse possiamo andare al prossimo step non siamo stati del tutto aperti con voi ma in realtà abbiamo pensato di rendere diciamo questa tematica degli archetipi vogliamo serializzare un po' questa tematica perché ci sembra estremamente interessante sia per scoprire nuovi archetipi ma anche sia per parlare effettivamente di capire anche come può essere strutturato un mazzo e magari anche non so dare dei consigli o magari delle nostre proposte di liste sì perché ogni archetipo come abbiamo visto può avere un milione di carte al suo interno un milione di strategie anche all'interno della stessa strategia perché se noi pensiamo ai segnalini più uno più uno possiamo pensarlo a un modo per fare le nostre creature più grandi oppure a un modo per utilizzare i segnalini come risorsa togliendole per fare delle altre cose con altre carte quindi quello che ci piacerebbe fare è avere una puntata dedicata a ognuno degli archetipi che poi andremo a indagare e appunto vedere in che colori viene giocato quali comandanti possono essere interessanti per quell'archetipo vedere un po' le carte che utilizziamo certo magari le carte principali che non dico che troveremo in tutti quei tipi di archetipi lì però sono diciamo quelle carte che possiamo definire staple per quel tipo di archetipo lì ovviamente ricordiamoci sempre la limitazione del colore del comandante chiaramente scegliendolo esatto ma anche quello farà parte del capire scegliamo un comandante perché ci piace quella strategia perché quel comandante fa bene quella strategia oppure perché quel comandante ci permette accesso a più colori che supportano quella strategia come parlavamo prima per esempio che il blu è spesso più orientato verso mazzi control ecco allo stesso maniera succede che alcuni comandanti e alcuni colori possono essere orientati verso alcune strategie nello specifico oltre appunto alle macro strategie control e aggro sì e poi trattandosi comunque di un gioco ovviamente dove delle persone si scontrano tra di loro potrà anche essere interessante vedere quali sono i matchup quindi magari capire anche quali sono quei mazzi che ci danno un pochino più fastidio dove siamo un pochino più in svantaggio ma anche quali sono le carte da includere per contrastare questi mazzi ricordiamo che comunque commander non almeno per adesso ma non è questo un concetto ma non ha una sideboard quindi l'idea di costruire il mazzo pensato per un'unica partita in cui abbiamo delle risposte è molto importante costruire il mazzo intorno a tutti i matchup che possiamo avere a che fare insomma e sì e poi magari potrebbe essere interessante proporre appunto delle liste in base a quelli che sono innanzitutto i nostri gusti magari anche però delle liste che possano ben rappresentare l'archetipo certo quelli saranno sicuramente degli esempi che possiamo portare e anche lì ovviamente lo faremo con il nostro gusto quindi faremo vedere un po' nonostante magari i consigli che vi abbiamo dato in un'intera puntata dire sapete che c'è io questa carta la gioco lo stesso perché mi piace so che non funziona ma la voglio giocare lo stesso esatto bene che dire speriamo che diciamo questa rubrica vi possa interessare come ci interessa ovviamente a noi se anzi avete delle richieste su degli archetipi in particolare se ce n'è qualcuno che vi sta particolarmente a cuore che non abbiamo ancora affrontato per favore scrivetecelo nei commenti o fatecelo sapere che sicuramente gli daremo spazio e mi sento di concludere nel dire che commandere è bello perché è vario anche se sembra un po' una frase fatta però è proprio questo il fatto non già la questione dell'archetipo che non è collegata al tempo ma è collegata alla tematica che c'è dentro al mazzo rende questo gioco estremamente longevo non avremmo mai partite sempre uguali anche con gli stessi mazzi perché di nuovo si lega appunto alla tematica quindi a quello che vuoi fare quindi la libertà assoluta che nasce con questo formato è anche questo dire tu vuoi fare la tua strategia che si basa sul tribale scoiatto lo puoi fare perché chiaramente commander ti permette di esprimere queste cose ovviamente sarà difficile trovare le carte che supportino questa tua passione però è il formato in cui possiamo esprimere questa nostra libertà esattamente andare oltre diciamo il mettere insieme delle carte che sono forti e basta e andare in qualcosa che coinvolge di più l'esperienza io faccio questa cosa qui perché mi piace fare diventa faccio questo perché mi piace fare non è più il come vinco vinco in fretta vinco con calma ma è il viaggio esattamente alla fine scopriamo che commander sono gli amici che avete fatto lungo la strada e dopo questa signori grazie per il video sì grazie per il video grazie per averci ascoltato e come sempre vi aspettiamo nel canale alla prossima e voi cosa ne pensate lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video condividere e iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di magic the gathering ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale da magic è tutto ciao e alla prossima carametra brudiclad trostani fenax mimeoplasm kinnan kraum xenagos l'abbiamo già detto akiri saskia arabo anewon apatra e riku nicole bolas l'abbiamo già detto